Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 attenzione al veicolo fermo in avaria in uscita a Valdichiana provenendo da Roma. Personale sulla strada per lavori tra Firenze Scandici e Firenze Impruneta in direzione Roma e tra Chiusi Chianciano e Orvieto in entrambe le direzioni. Sulla Fipili veicolo fermo in avaria tra Girestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Per quanto riguarda le statali sulla 62 della Cisa rallentamenti in entrambe le direzioni per un senso unico alternato circa due chilometri prima di Aulla. Sulla 64 Porrettana lavori tra Villaggio Il Signorino e il Ponte della Venturina in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!